le ha alzato la palla alla fine quando hai iniziato a parlare dei responsabili della protezione dei dati perché sono anche nati dei nuovi lavori sono nate delle nuove specializzazioni e c'è la necessità che le aziende si preparino a questo per cui la sfida del DPO appunto inteso come responsabile della protezione dei dati è una sfida molto molto aperta. Prego buongiorno a tutti. Ho cercato anche di costruire delle slide che ricordassero un po' l'Alto Adige quindi mi sono imposto anche di vedere il lavoro del DPO. Sai che è uno dei rischi più grandi che si corrono quando si fanno queste cose e hai preso un pezzo di montagna croata e di venderla per l'Alto Adige è già successo? Lo so benissimo Ha parlato con la Santa Anche prima Sì assolutamente. Perfetto. Poi dovete sapere che io passo un mese della mia vita in Alto Adige. Allora se le foto non suona un vale. Utilizzo le mie le mie le mie slide. Allora intanto vi ringrazio per questo invito. Io sono Matteo Colombo, sono il presidente di ASSO DPO. Chi è il Data Protection Officer? Perché magari partiamo dal presupposto che non tutti possono sapere questa funzione delle delle RPD cioè del responsabile della protezione dei dati. Il Data Protection Officer quando lo devo raccontare a un imprenditore gli racconto è un po' come l'RSPP sulla privacy. Cioè la norma dice che ci debba essere, ci possa essere e ci deve essere per la pubblica amministrazione un soggetto che affianca l'imprenditore quindi il titolare del trattamento, il datore di lavoro nell'accompagnamento a essere compliance e essere rispettosi della norma. Quindi noi Data Protection Officer facciamo questo. Oggi siamo settecentomila in Europa. In Italia siamo circa settantamila. Quindi se fino a cinque anni fa mia madre non capiva assolutamente il mio lavoro oggi forse incomincio a capirlo, ogni tanto me lo chiede. Inizialmente pensavo lavorassi per i servizi segreti, ho detto no non è assolutamente questo, sono un Data Protection Officer. Il confine labile, no? Certo, assolutamente. E quindi la prima sfida che abbiamo in azienda è dare un valore aggiunto, far capire che le aziende che si dotano di un Data Protection Officer affiancano un soggetto che può aiutare l'azienda a crescere. A crescere sui trattamenti dati perché ognuno di voi tratta dati, tratta dati dei propri lavoratori. I lavoratori hanno trattamenti dati molto importanti perché se noi solo pensiamo a videosorveglianza, molte aziende, molti ristoranti, molte attività hanno videosorveglianza e quindi la videosorveglianza va governata in un certo modo o hanno muletti. I muletti sono tutti ormai dotati di GPS e quindi c'è qualcuno in azienda che ha un parco auto e ha un GPS sull'auto e quindi posso vedere dove è andato il mio lavoratore. Oppure ho i miei clienti e ognuno di noi ha un sito web. Se è un sito web o dei cookie di profilazione, se ho dei cookie di profilazione farò un trattamento di profilazione dati o avrò una fidelity o avrò tante situazioni, uno schema di registrazione. Quindi per poter gestire questo devo rispettare la norma. Quindi non è non è sufficiente solo un'informativa. È necessario, e questi sono i compiti del DPO, identificare. Identificare cosa? Identificare le basi giuridiche. Cioè io se tratto un dato devo avere una base giuridica. Il consenso o il legittimo interesse oppure un'altra base giuridica può essere quella del contratto. Però la devo indicare nella mia informativa e deve essere corretta. Spesso le basi giuridiche vengono sbagliate. Per esempio io vado sul sito e mi trovo un flag già sul consenso oppure no, tratto il tuo dato di marketing perché ti devo dare un servizio. È sbagliato. Prefleggo il consenso se no non ti do il mio servizio. È un errore e ci sono sanzioni su questo. Di alcune migliaia di euro. Perché le sanzioni nuove con questa norma sono rispetto al vostro fatturato. Oppure rispetto a quello che l'autorità ritiene che sia una sanzione che possa essere sentita dal cliente. E quindi questo sta muovendo molto le aziende. Identificare anche il trasferimento dati. Cioè come voi sapete avrete letto molto spesso i dati devono essere trattati in stati dove c'è una norma che difende i dati. Però oggi col cloud io posso mettere sul cloud un dato e magicamente mi finisce magari in un server cinese o in un server di una sperduta landa di un paese africano dove non c'è una norma privacy. E quindi io devo fare in modo che questo dato sia difeso come in Europa. E lo posso fare solo con determinate rassicurazioni da parte del fornitore. Quindi tutti i fornitori di dati vanno quanto meno validati. Vanno controllati. E guardate che voi molti dati che trattate li date esternamente. Le buste paga le date a un consulente del lavoro che poi utilizza un software che sta su un server che questo server sta in un'altra parte e c'è una grandissima filiera di dati. Cioè oggi è una grande filiera di dati. Se parliamo del settore alberghiero ci sono tantissime filiere di dati del settore alberghiero perché gli ordini mi arrivano da grandi piattaforme che non stanno in Italia ma che stanno da altre parti e che magari utilizzano i miei dati e arricchiscono con i dati che inserisco e guadagnano. Identificare la violazione dei dati. Ecco questa è un'altra grandissima sfida che noi abbiamo. Che si lega a un'altra sfida che poi vediamo che è quella della conservazione del dato. Cioè sulla stabilire la conservazione del dato, lo anticipo. Io entro in un'azienda e dico ma quanto tieni dati di contabilità o dei tuoi dipendenti? Guardi dottor Colombo noi teniamo tutto perché non si sa mai. Cioè ma mi dica quindi no io ho anche i dati di vent'anni fa che una signora perché sa se deve ricostruire la pensione viene da me. Ok accettiamo questa sfida volete tenere tutto però tenete conto di una cosa se oggi arriva un attacco informatico sui vostri pc e sui vostri pc ci sono tutti questi dati il vostro rischio sanzionatorio si decuplica. Perché qui avrete dentro dati di tutti i tipi di questi lavoratori o di questi clienti dove abitano? Avrete dati pensionistici? Avrete dati sul Liban? E la prima domanda che vi farà l'autorità non l'ha detto perché non poteva dirlo probabilmente ma ve lo dico io che subisco le verifiche sarà perché tenevi questi dati? Ti servivano? Erano proporzionali? E quindi il dpo la sfida del dpo è aiutare il titolare del trattamento a dire dobbiamo dare una scadenza al dato perché tenere le immagini video sorveglianza a mesi? Non è possibile vi sanzionano se vedono questo e quindi questa è una grande sfida è una grande sfida di resistenza al non si sa mai questo non si sa mai deve essere trasformato il dpo vi deve aiutare a dire il dato ha una scadenza e poi non prendere tutti i dati determinare determinare le misure di sicurezza c'è il titolare deve determinare le misure di sicurezza che non sono solo l'antivirus il firewall è anche la formazione lo vedremo poi perché il 50 60 per cento dei degli attacchi cyber sono comportamenti umani l'umano che sbaglia che clicca un phishing che non sta riconoscendo ransomware e quindi noi dobbiamo imparare a determinare le misure di sicurezza fisiche tecniche ed organizzative fisiche tecniche organizzative determinare la necessità di una valutazione d'impatto e quindi capire su alcuni trattamenti importanti devo fare una sorta di dvr alla sicurezza del lavoro cioè dire che rischi ho come li sto governando il mio server dove sta ne sotto scala l'archivio cartaceo dove sta all'aperto magari piove e guardate queste sono tutte sanzioni c'è garante olandese sanziona un ospedale che teneva il archivio cartaceo in un garage dove pioveva dentro oppure compro le chiavette usb prive di password quindi le perdo e quindi sono sanzionato questo è il caso di un'assicurazione se parliamo di videosorveglianza c'era un bar che riprendeva la pubblica via non diceva niente a nessuno passa una persona e dice mi hai ripreso perché e fa una causa perché quel bar era in webcam perché oggi le telecamere le mettiamo in webcam però le webcam nascono perché dovrebbero far vedere il paesaggio non perché dovrebbero far riconoscere che Matteo Colombo scala la montagna insieme a una persona ok quindi questi sono tutti i temi dove noi data protection officer dobbiamo aiutare come a conoscere le leggi le leggi non sono solo la norma privacy il gdpr il testo unico privacy oggi c'è l'intelligenza artificiale ma che subiamo perché oggi l'intelligenza artificiale se io faccio un un colloquio con grandi società potrei dire Ikea per esempio perché sopra fa il primo colloquio lo faccio con l'intelligenza artificiale c'è una persona online mi dice preferisce essere colloquiato da una donna un uomo donna perfetto è un'intelligenza artificiale e ci sono già cause su questo perché magari alcune intelligenze artificiali se io balbetto non mi riconoscono mi scartano e quindi c'è una norma sull'intelligenza artificiale ma per questo perché non puoi cioè fare in modo che se sono black o white allora un punteggio maggiore e questo è un tema che già abbiamo nelle nostre organizzazioni quindi dobbiamo già governare l'intelligenza artificiale perché uno dice ma no è una cosa di altri no è una cosa che viviamo qua ogni giorno conoscere i registri dell'attività di trattamento per esempio adesso non faccio domande perché ci sono anche autorità però fatevi prima diceva l'auto dottor Rispoli ci ha spiegato che c'è un tribunale interno il mio è chiuso da anni per sicurezza sul tribunale vostro interno è ma avete un registro dei trattamenti come azienda cioè sapete che dati trattate e cioè come dire entri a casa mia io devo sapere che dati tratto del mio cliente dove c'è io quali sono i soggetti esterni che me lo trattano perché quando il data breach il data breach alle volte non è mio ma è del mio fornitore di servizi mail 5 potrebbe essere mail app sapete quanti che dopo però pago io che sono titolare che ho scelto loro e quindi un registro dei trattamenti sicuramente ci deve essere quindi conoscere il proprio registro dei trattamenti organizzare e partecipare alle verifiche sulla protezione dei dati quindi degli audit di fare in modo che questa cosa venga conosciuta presidiare i rapporti con le autorità di controllo perché ci sono c'è sapere che se ho un impianto di viso sorveglianza dovrò andare in provincia autonoma a chiedere un'autorizzazione come posso dire dovrebbe essere ormai acclarato c'è l'articolo 4 della legge 300 c'è dal 1970 c'è l'anno più sono nato 15-53 anni ancora ieri venire era un dato riservato e non glielo dico ma lo trovate ovunque do informazioni vere potrei anche dare non informazioni vere c'è un bellissimo libro anche da questo punto di vista che è camuffaggio si chiama che è una tecnica che hanno inventato durante la seconda guerra mondiale cosa facevano in inghilterra in inghilterra mettevano degli aeroporti di cartone che venivano cioè non c'erano i radar arrivano i tedeschi attaccavano nei campi inglesi aeroporti di cartone e quindi questo libro che si chiama il titolo in inglese è obfuscation l'obfuscation si ha si opera anche come tecnica all'interno della rete però non vi tediono oggi non parliamo di obfuscation però se volete leggerlo lo trovate offuscamento filtrinelli mi pare quindi stabilire le procedure interne delle policy come dicono in svizzera dove opero le politiche che io internamente dovere come si usa un pc cosa devo fare il pc oggi mio è questo un tera un tera cioè praticamente qui ci può stare il mondo e io lo porto in giro qui mi scrivono le mail i miei associati le aziende che seguo e questo lo devo proteggere se io non faccio la criptografia di questo e lo perdo dovrò notificarla questa perdita se invece faccio la criptografia del di questo sistema o uso un sistema mdm se lo perdo avrò la possibilità di dire al garante non ti notifico e non comunico agli interessati che erano qua perché ho protetto in un certo modo questo dato questo è importante l'imprenditore lo deve sapere stabilire e fornire programmi di formazione anche qui parlando di norme cioè spesso come veniamo chiamati i dpo cioè non mi chiamano dpo chi sta arrivando ma sta arrivando quello della privacy cioè come se fossimo quelle entità un po come dire et x file sta arrivando quello della privacy ma chi sono sono i data protection officer mi devi conoscere dove sono nominato data protection officer faccio un esempio all'ordine di giornalisti da lombardia cioè la prima cosa che ho fatto è faccio un corso mi faccio vedere perché se no a chi si rivolgono cioè spesso entro in azienda fa vorrei parlare col dpo aspetti che aspetti che chiedo chi è è già lì accountability che diceva il dottor gugliermi va un po quindi la formazione è fondamentale dovete farla ed è importante perché ormai sono norme di comportamento stabilire attuare quindi e assicurare la redazione di relazioni periodiche cioè se avete un dpo e non l'avete mai visto adesso non so se avete un dpo se siete una pubblica amministrazione per forza e quindi se già non l'avete mi preoccupo se siete un'azienda privata potete averlo come no ma se l'avete non l'avete mai visto e non ha mai fatto una relazione mai fatto una relazione al cda just non ha un problema perché arriva l'autorità e vi sanziona quindi il vostro dpo deve fare delle relazioni panico in sala no beh non è panico sempre sulle sfide il dpo è come l'alpinismo qui ho messo dei cartelli che sono invece tipicamente sono doc sono doc ok anzi perché avevano messo in realtà un'altra montagna dove io spesso vado che a cavallo che stiamo parlando di gran zebru però gran zebru è proprio una 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 montagna di confine tra l'alto adige e cima solde e quant'altro però ho voluto invece più venire quindi il dpo è come l'alpinismo questo lo dice marco confortola non è un'attività come le altre è uno stile di vita che impatta però sulla quotidianità della gente e ne condiziona ogni singolo istante allora qual è la sfida del dpo ma avete parlato di sfidalo la sfida del dpo è conoscenza dell'organizzazione in cui opera ce lo chiede anche adesso c'è una verifica delle garanti europei che è proprio basata sui dpo sono settantadue domande che arrivano al titolare del trattamento o la prima domanda è ma conoscete la vostra organizzazione cioè io la devo conoscere l'organizzazione devo sapere chi è il titolare del trattamento devo sapere chi sono i preposti al trattamento ok cosa fa quali tipo di rischi ha conoscenza delle norme che incidono non è solo il gdpr è anche intelligenza artificiale digital service statuto dei lavoratori codice civile cioè perché poi si si incrociano tutte queste norme di diritti il codice penale perché c'è una parte penale nel testo unico privacy trattamento illecito di un dato che quando condolo io mi arricchisco utilizzando dati che non sono stati raccolti in maniera corretta e quindi se io ho un sito web non chiedo il consenso mi faccio una bellissima banca dati ok e poi incomincio a telefonare piuttosto che a mandare mail in liste si chiama trattamento illecito dei dati 167 testo unico privacy oltre che essere una sensazione amministrativa e quindi devo tenerne conto fare in modo che la privacy quindi diventi un processo aziendale spesso presentavo un'altra slide che era questa la privacy deve essere un processo aziendale se non lo è voi cosa rischiate rischiate di prendere un consulente un dpo un consulente e rispetto a questo dpo consulente fare una montagna di carta io ne avevo uno che vendeva il monumentale cartaceo cosa farà mai faceva carte così e poi questo se ne va e voi non avete niente in mano invece la privacy deve essere un processo aziendale cioè deve essere sentito così come il dpo non deve mai essere da solo cioè io credo molto nei team dpo essendo associazione dpo qui c'è anche qualche nostro associato per effetto anche da anni che collabora con noi in aula c'è qualcuno che lavora per noi da anni quindi lavoriamo molto in team perché perché se io devo governare un cyber attacco c'è dovere esperti diversi c'è il dpo deve sapere di leggi ma anche un po di informatica deve sapere di auditing e quindi è uno dei temi molto importanti di rete imparate a fare la rete facciamo rete assieme se siamo qui assieme oggi è anche perché c'è una rete di conoscenze e questa è la sfida che ha la mia associazione per esempio saper lavorare quindi in team e comunicare e indipendenze credibilità questo è importante anche questa è una domanda che spesso mi viene fatta l'indipendenza significa che non potete scegliere come dpo l'HR manager l'IT manager il consulente informatico perché anche questo non è indipendente ma non è che lo dice Matteo Colombo lo dicono le linee guida ve lo dico perché ci sono comuni che hanno nominato i segretari comunali e sono stati sanzionati ve lo dico perché ci sono aziende che hanno nominato gli IT manager e sono stati sanzionati e quindi anche questo è un tema di cultura che dobbiamo portare nelle nostre organizzazioni e quindi operare in un contesto che è comunque in continua evoluzione quindi la sfida invece nostra quella del data protection office era una continua formazione cioè non c'è giorno dove noi non ci formiamo anche perché noi operiamo in un contesto internazionale l'Alto Adige opera in un contesto internazionale se ho faccio un esempio per farvi capire anche un albergatore locale che temi ha se io ho un sito web e sono un albergatore locale e lo metto in lingua inglese in lingua russa in lingua cinese e permetto l'acquisto della soggiorno soggiorno da quei paesi io non dovrò solo applicare la normativa europea ma sarò a oggi queste norme sono diventate attrattive e mi dicono devi applicare anche la mia norma e quindi devi mettere un'informativa privacy russa un'informativa privacy cinese e un'informativa privacy americana non solo i paesi cina russia meglio non parla della russia ma la cina comunque che è un paese di un certo tipo hanno anche dei temi di attrattività di server cioè dicono ah tu tratti un dato di un cinese il server sta qua cioè io voglio avere il primo approdo qua dei dati e quindi tu non solo usi il cloud ma devi avere di là un server che ha i dati dei cinesi perché loro hanno uno stato di controllo da questo punto di vista se non lo fai cosa fanno non è che ti sanzionano perché dovrebbero fare un arrogatorio internazionale no scrivono a google e ti dicono toglilo non voglio che si veda più quel sito nella mia nel mio stato e quindi un danno anche reputazionale e guardate che è successo e con questo termino a un albergo svizzero quindi senza andare che vendeva le proprie camere in austria e cosa ha fatto questo albergo aveva un'informativa dove non metteva il nome del dpo e non dava un'informativa che dava la possibilità all'interessato di chiedere la cancellazione dalla newsletter ok poi questo albergo è caduto male perché dall'altra parte l'interessato era un avvocato e quindi l'avvocato naturalmente ma guardate che l'accordo tra Europa e Stati Uniti è caduta per un avvocato perché Schenepsen è un avvocato non è nient'altro vabbè ma cosa è successo quindi l'autorità garante austriaca ha sanzionato questo hotel con un ammonimento però ha pubblicato la sanzione sul sito con il nome e cognome dell'autel e quindi se io fossi un consumatore quello che è stato detto prima risorsa un consumatore austriaco vedo lì che l'hotel Alpen non vi dico il nome perché non c'ho voglia però lo andate a trovare perché o googlando lo trovi no probabilmente non rispetta la norma privacy e questo da un punto di certi come dire consumatori incominciano a vedere anche questo e dico ma perché mi devo recare in questo albergo che non rispetta la mia privacy io rimango a disposizione dopo per le domande c'è un po' inquadrato quello che è la nostra sfida grazie per conoscere